Eccoci di nuovo con la prima lezione del Content Creator Strategist Allora, innanzitutto in questa principale fase, ma in questo capitolo in generale andremo a parlare principalmente di come creare contenuti strategici all'interno di Instagram Non vedremo altro, perché giustamente questo non è il corso della Social Media Marketer ma è il corso che ti insegnerà a creare contenuti di valore su Instagram a crearti una vera rendita su Instagram indipendentemente dalla strada che tu voglio scegliere quindi quello che voglio trasmetterti sono tutte le mie competenze a livello di Instagram Poi ovviamente anche io formo in continuazione, analizzo continuamente la piattaforma e quindi spesso vedrai nuovi video perché teniamo sempre aggiornato il corso Quindi non devi temere che qualcosa possa cambiare all'interno di questo videocorso Anzi, si cambierà all'interno di questo videocorso ma non perderai mai nulla perché saranno sempre contenuti che si aggiornano sempre e comunque per aiutarti a raggiungere i risultati nel modo più concreto possibile Quindi, andiamo a vedere nella prima lezione La prima lezione dobbiamo dire che noi, Instagrammer, siamo produttori di comunicazione Il che cosa vuol dire? Che se io pubblicizzo un'immagine e sottoscrivo una frase di quello che quell'immagine per me rappresenta Io attraverso quello che sono, ovvero un Instagrammer perché l'Instagrammer, ricordo se te l'avevo già spiegato, sono le persone che sono all'interno di Instagram e lo utilizzano per promuovere i propri contenuti È diverso dall'influencer marketing Perché l'influencer marketing, come sai, promuove prodotti di altri e porta proprio le persone a seguirlo L'Instagrammer si preclude il fatto di pubblicare immagini costantemente e contenuti per se stesso e per il proprio pubblico di follower Ma è semplicemente, è un pochino diverso dall'influencer marketing Quindi noi Instagrammer, noi che pubblichiamo contenuti online su Instagram non facciamo altro che promuovere e produrre comunicazione Perché all'interno dei nostri hashtag, all'interno delle foto che inseriamo all'interno dei messaggi che vogliamo, diciamo, trasmettere al pubblico noi cerchiamo di dare qualcosa che sia comunicare magari che ho fatto una foto pazzesca magari una storia triste magari una cosa, una storia felice è per quello che è importante l'immagine con una buona magari grafica, con un buon filtro lo storytelling, quindi il copywriting vedremo anche la differenza tra storyteller e copywriter e gli hashtag perché gli hashtag ci permettono di essere ricontattati dopo tantissimo tempo Quindi gli Instagrammer, abbiamo detto, che sono produttori di comunicazione La comunicazione avviene, come stavo dicendo, all'interno di un contenuto che noi pubblicizziamo e il contenuto, voi non ci crederete, ma è vera e propria cultura perché se io parlo di un determinato argomento vuol dire che ne so che ho studiato che mi appassiona che magari mi informo perché io di quell'argomento sento di saperlo e quindi voglio comunicarlo a te follower o a te amico mio che sei all'interno di Instagram Quindi, laddove io con un'immagine, con una frase con qualsiasi cosa cerco di produrre cultura ma anche gli altri possano promuovere cultura anche rispondendo sotto alle mie foto con i loro commenti perché magari a me è capitato spesso di vedere per un cliente creare contenuti per un ristorante che ha vieste riceviamo all'interno dei commenti sotto magari le storie della sua posizione strategica panoramica vedete poi quanto è strano il mondo del marketing però è per farvi capire che la produzione la comunicazione e la cultura sono di pari passo allora, noi abbiamo pubblicato un'immagine di questo ristorante al centro di Vieste commenta un cliente dicendo fantastica fantastica posizione ma com'era? aspetta? allora no scusate sotto l'immagine di questo ristorante avevano commentato del tipo che bella Vieste non vedo l'ora di venire perché ho saputo che è molto non solo è bella per la spiaggia ma anche per la storia ecco il messaggio era circa una cosa del genere e sotto un altro cliente ha commentato sì se non sei mai venuto a Vieste non puoi perderti la storia del pizzo munno che in realtà tutti penso che la conoscano perché Gazzè porta una una canzone del genere a Sanremo però comunque sia tra quando si arriva a scambiarsi cultura all'interno di una chat di Instagram vuol dire che il prodotto che stiamo pubblicando e pubblicizzando e la comunicazione che stiamo usando è quello giusta quindi bisogna sempre avere uno scambio di cultura cercare di 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 aumentare le interazioni all'interno dei nostri post promuovendo la cultura perché la cultura non è solamente andare a scuola a leggere libri la cultura è ovunque noi poi soprattutto siamo un paese di cultura e non possiamo permetterci di non conoscere magari il turismo di non conoscere magari anche i prodotti di bellezza italiani la moda e cose varie perché io fidate di me se voi volete avere soprattutto magari successo nel mondo dell'influencer marketing o dell'instagram marketing voi dovete studiare costantemente e questo vuol dire produrre cultura come lo fate? lo farete all'interno dei vostri contenuti all'interno della vostra comunicazione all'interno dei delle strategie di diciamo strategie creative che andremo a vedere nei prossimi step soprattutto perché nella prossima lezione faremo una distinzione non indifferente di quello che c'era prima e di quello che oggi veramente funziona quindi resta con noi e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti